I tuoi dati personali sono una sfera di cristallo del ventunesimo secolo e sono enormemente preziosi anche se in continuo mutamento. La massiccia elaborazione e conservazione dei dati personali viene utilizzata in tutti i settori, incluso il commercio, gli appuntamenti, la salute, le assicurazioni, le banche, l'educazione, lo sport, la politica. Nessuna industria è al sicuro dato che l'obiettivo è quello di tracciare con precisione il nostro comportamento da consumatori e conoscere i nostri più piccoli desideri. Qual è lo scopo di tutto questo? Anticipare il futuro e prevedere con precisione i nostri prossimi acquisti per influenzare. La realtà è che ogni volta che clicchi vieni osservato. Vengono registrati i dati su chi siamo, chi conosciamo, cosa acquistiamo, dove ci troviamo, dove siamo stati e dove vogliamo andare e molto altro. Tutti noi acquistiamo online. Una volta volevo comprare un paio di scarpe su un sito e nei giorni a seguire un'offerta promozionale dello stesso tipo di scarpe è comparsa nella mia posta elettronica. Tutti i siti monitorano i tuoi movimenti con file nascosti chiamati cookie. Ancora meglio, grazie a questi cookie, i siti che non ho mai visitato riescono ad osservarmi a distanza. E non sono discreti. Un software specializzato mi consente di vedere tutto questo in tempo reale. Ad esempio, quando effettuo l'accesso ad un sito informativo, posso vedere che altri siti mi stanno osservando. Anche se avevo appena effettuato l'accesso, ho potuto riconoscere 9 cyber tracker diversi che spiavano la mia navigazione. Dopo un'ora avevo visitato 17 siti, ma altri 272 mi avevano spiato in maniera legale. Il loro obiettivo? Conoscere i miei gusti ed abitudini cercando di anticipare i miei desideri. La chiamiamo analisi predittiva. Una miniera d'oro per i giganti del consumo di oggi. Spiare i consumatori potisce una pubblicità ancora più focalizzata, creando sempre modi più efficienti per scoprire cosa pensano i tuoi clienti. Siti come Facebook, Google+, Twitter o pagine web lo sanno bene. Sui network le opinioni circolano e le aziende monitorano i consumi. Secondo gli esperti della Silicon Valley, la maggior parte degli utenti internet non è ancora a conoscenza del potere dei giganti della rete. Si può ricapitolare il tutto in una frase. Se usi una rete di servizi gratuiti, sei tu il prodotto. Questi giganti della rete utilizzano i tuoi dati per spedirti della pubblicità. Basta dare un'occhiata a Google e Facebook. Oggi tutti gli operatori sono alla ricerca di queste informazioni private. E queste informazioni private valgono molto di più del loro peso in oro. Dato che una volta archiviate gratuitamente su internet, le tue informazioni possono andare in vendita. E a proposito, chi vende i miei dati senza il mio permesso? Grossi siti come Twitter, Facebook, Google, così come molte altre aziende meno note, sono conosciuti come data broker. Anche se si tratta di un business relativamente nuovo, ci sono già oltre un centinaio di aziende diverse che operano in questo campo soltanto negli Stati Uniti. Ogni evento della tua vita ha un prezzo. La tua età, indirizzi, sesso, il prezzo base, 0,007 dollari e gli extra, aumentano in fretta. Tu pensi di sposarti? Allora aumenta. Stai aspettando un bambino? Continua a crescere. Hai una patologia cardiaca? Hai in programma di fare sport per perdere peso? Cresce ancora. Cambi auto? Cambi il colore dei capelli, le tue opinioni politiche? Cresce ancora. Se i tuoi bambini cambiano scuola o si iscrivono a delle lezioni all'università? Continua a salire. Vuoi acquistare un forno a microonde? Una fotocamera? Vai in vacanza? Continua a salire ancora e ancora. È essenzialmente un prodotto digitale, consumistico, in costante evoluzione. Incredibile! Non c'è da meravigliarsi che questo sia il nuovo oro nero del pianeta. Ogni somma è piccola, ma quando moltiplicata per milioni di utenti il totale diventa astrologico. La parte veramente affascinante è che il valore di questi dati è in continuo cambiamento, proprio come lo sono le nostre vite. presenta inoltre un enorme vantaggio sul suo predecessore. Questo prodotto è digitale, il che significa che viaggia alla velocità della luce da un'altra parte del pianeta all'altra, letteralmente in pochi mille secondi.